Sullo stato di degrado nel quale versa il parcheggio pubblico di via Catusi di Sciacca nel corso degli anni sono state spese tante parole e impiegati fiumi di inchiostro. I genitori dei bambini che frequentano l'attiguo plesso scolastico hanno adotto vita in diverse circostanze e iniziative di sensibilizzazione, tra cui anche degli interventi simbolici ma anche piuttosto concreti di pulizia della zona. Tutto questo non basta e oggi, costituitisi in comitato spontaneo, mamma e papà degli alunni che frequentano la scuola primaria Giovanni XXIII di via Catusi hanno promosso un'altra iniziativa, se possibile ancora più provocatoria. In una nota sottoscritta da una trentina di loro si sono rivolti infatti al sindaco ma anche al comandante della polizia municipale, al capitano della compagnia dei carabinieri, al dirigente del commissariato di polizia, lo stesso dirigente scolastico. Invitano tutti loro giovedì mattina 23 gennaio alle 7.30 in punto presso il parcheggio Catusi ad accompagnare personalmente i propri figli nel tratto che vada al parcheggio fino all'ingresso della scuola. Obiettivo? Permettere loro di vedere ciò che ogni giorno vedono i bambini. L'elenco dei problemi è quello a tutti noto, sporcizia, erbacce ma anche vandalismo e rovina della stessa struttura costruita per ospitare le toalette ormai devastate e piena di rifiuti, trasformatasi in un pericolo igienico-sanitario per quanti si trovano a transitare nelle vicinanze. Fanno notare i genitori dei bambini che già dopo pochi mesi dall'inaugurazione, il 28 giugno del 2012, il parcheggio Catusi ha subito gravi atti di vandalismo che hanno visto danneggiata la struttura di vita e servizi igienici. Fanno notare anche che questo parcheggio sembra essere snobbato non solo dagli automobilisti ma anche dalle amministrazioni comunali che si sono succedute non ricevendo né cura né manutenzione. Eppure quest'area viene regolarmente utilizzata soprattutto nel periodo scolastico prevalentemente dai genitori che accompagnano i propri figli presso la scuola primaria Giovanni XXIII. Genitori i quali evidenziano che nelle ore extrascolastiche la zona si trasforma in ricettacolo di deiezioni dei cani visto che padroni, definiti dai genitori stessi incivili, più volte al giorno portano a passeggio i propri amici a quattro zampe. Infine nelle ore serali l'area viene frequentata da giovanissimi che abbandonano intere o frantumate le bottiglie di vetro che contenevano gli alcolici da loro appena consumati. Insomma per i genitori dei bambini che frequentano quella scuola quel parcheggio è un'area che non merita questo trattamento ne merita disinteresse. Ecco dunque il senso dell'iniziativa in programma per giovedì prossimo.